Per quanto riguarda Bellini, come principio è sicuramente giusto. Totalmente sbagliato è il tempo con cui è stato in qualche modo incardinato e gravissima responsabilità del Governo nell'avere lasciato dormire per due anni questa normativa senza intervenire e prendere in modo preventivo tutti gli atti necessari affinché alcuni disastri bancari come quelli che sono stati venuti in evidenza e che magari verranno in evidenza del futuro potessero essere gestiti nell'ottica tra virgolette degli aiuti di Stato come vengono fatti e come sono stati fatti ad esempio in Germania.